Qual è questo amore verso la città? Piegare la testa davanti alla grande industria? Davanti all'ex Ilva? Sì, piegare la testa, perché lei parla, sindaco, di diversificazione, di accordo di programma, ma non ha il coraggio di dire e di usare la parola chiusura. Gioca sugli equivoci, decarbonizzazione. Lei non ha parlato di chiusura dello stabilimento, lei ha parlato di un'Ilva più piccola e meno inquinante. Quindi lei vuole un'Ilva più piccola e meno inquinante. Sta confermando il sindaco, è legittimo, conferma. Quindi, cari ambientalisti, sappiate bene che il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, come è libero di dirlo, non vuole la chiusura dell'Ilva. Vuoi la chiusura dell'Ilva o no? La vuoi o no? Rispondi.